è così appena appena si si è così e bisogna pulire il gesto dopo la vittoria al torneo amici del grandissimo tennis amici di tv violar questa sera sul baghetti stadium c'è un scontro tra titani uno sconto tra meringoli dove già marco la potenza è nulla senza controllo però il ragazzo sta crescendo il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7 è comunque sì vediamo qui il fresco vincitore nel torneo del villa aurelia quasi quasi metteva la capocetta in seconda categoria intanto il magico sponsor continua a randellare contro la maestra federica francesca abbiamo incrociato la maestra tele poco fa che ci ha confermato che forza di ribattere i prodigiosi dritti del magico sponsor lì è venuta la tendinite e questa è la ragione del perché c'è questo cambio tecnico nella squadra del magico sponsor tanto vediamo un po maestro fabio questo tenta il rovescione in corsa colpo di ad alto coefficiente di difficoltà vediamo ancora qualche scampolo di questo set di allenamento è questa è lunga questa è lunga aiaiaiaiaiai drittone a rete e vabbè ma d'altronde il giorno dopo il prestigioso successo ci può anche stare un minimo di calo comunque un onore al presidentissimo che comunque non si prende mai un giorno di riposo è sempre sul campo ad affinare la sua preparazione e qui Gianmarco lo mette anche in difficoltà sì 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 ragazzo autodidatta che ha cominciato da pochissimi mesi a giocare al tennis devo dire che sta crescendo molto rapidamente il giorno che capirà che una regola fondamentale del tennis è sopra la rete e dentro le righe ce ne sarà più per pochi grazie a tutti e questo era facile un gioco di palle corte non precisissime comunque fine dell'allenamento sicuramente proficuo per entrambi prendiamoci ancora qualche secondo di bellezza e di godimento tecnico assistendo al riscaldamento e all'allenamento del Magico Spons eccolo là grande grande tennis va bene amici di depuvelare allora si sta per concludere il clima è meraviglioso io personalmente invidio tutti coloro che possono calcare i campi da tennis in questo periodo inquadrando ancora il massimo talento espresso da questo circolo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti